Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books Io sono Tiffany, Long Time No See nel senso che ultimamente mi sono dedicata solamente alle live della smarginatura perché come potete immaginare hanno richiesto parecchio lavoro e parecchio tempo ma torniamo per una serie di video in conclusione di quest'anno con una serie anche relativa di un po' di boh, tirare le somme se così lo possiamo dire e quindi cosa c'è di meglio di questo book tag che si chiama Fuck 2020 che io mi devo ricordare di bippare, ok? A parte le varie considerazioni che devo un po' ripetere a me stessa giusto per ricordarmi di non essere espulsa da YouTube o demonetizzata in pratica questo book tag lo volevo fare, l'ho visto da Franny for Thoughts mi sembrava giusto perché tocca una serie di punti secondo me interessanti e il video originale invece si chiama Low Key F2020 una cosa del genere vi linko tutto giù così potete andarli a recuperare direttamente dal video originale direi che però è arrivato il momento di cominciare e si comincia un po' con una domanda del cazzo ovviamente però insomma partiamo così insomma parliamo di questo anno di m***a perché so che lo è stato per tutti e per tutte una cosa però che ripeto sempre è per quanto siamo tutti in una situazione orrenda non siamo tutti nelle stesse situazioni quindi insomma è una cosa che ripeto sempre perché bisogna sempre un po' contestualizzare a parte questo andiamo alla prima domanda che io non ho tradotto perché non ne avevo voglia quindi ora ve le traduco direttamente in diretta vabbè comunque c'è sempre della professionalità su Miss Fiction Books la prima domanda è condividi qualcosa di buono che è successo nel 2020 ok e qualcosa di cattivo qualcosa di brutto se ne hai voglia share some good stuff that happened in 2020 and some bad stuff if you want allora è complicato parlare delle cose brutte che sono successe nel 2020 e me lo tengo un attimo alla fine ma davvero ho cercato in più modi di cercare di pensare anche alle cose positive di quest'anno ed effettivamente quest'anno qualcosa di positivo c'è stato ci sono state tante cose belle per me anche in questa piattaforma e in generale insomma nel mondo internettiano che parla di libri sono successe cose molto belle ho intervistato la mia autrice preferita ho intervistato Libard Hugo e questo è... non so come dire cioè... punto ho intervistato Speranz recentemente che era una delle cose che volevo fare proprio da più tempo sono super felice a breve vedrete un'intervista anche con Nicoletta Vallorani che è una persona che io stimo tantissimo ho intervistato Jay Kristoff che vabbè è una lunga conoscenza e mi ha fatto piacere da morire ma anche Amy Kaufman quindi insomma ci sono una serie di autori e autrici che io ho potuto intervistare con i quali ho potuto collaborare e ovviamente sono super contenta di questo perché secondo me sono state insomma esperienze meravigliose ovviamente per me ma non credo solo per me non so poi l'intervista con Lee per me è stata una cosa super collettiva cioè c'ero io a piangere cioè a cercare di non piangere mentre la intervistavo ma c'era la chat impazzita è stato bellissimo se vi siete persi l'intervista a Lee Bardugo per Luca ve la linko giù nell'infobox e non so è stata un'esperienza anche molto collettiva mi avete scritto boh io penso di aver ricevuto migliaia di messaggi ed è stato bellissimo anche qui sopra poi se vogliamo dirla tutta la famiglia è cresciuta tantissimo e questa è una cosa molto bella secondo me perché siamo cresciuti di quasi 6.000 persone in più rispetto all'anno scorso e sono tante quindi quando faremo finalmente la festa dove distribuirò birretta tutte per la pazienza che avete nel seguirmi dovremo affittare un palazzetto un po' più grande quindi ci spostiamo da uno piccolo piccolo a uno un pelo più grande sono super contenta e vi ringrazio tanto di questo ci tengo sempre cioè non è mai una cosa che io dico in maniera non so come dire in maniera paracula non lo do mai per scontato anzi tutto ciò che io posso fare è continuare a interagire di continuo il più possibile soprattutto cercare di lavorare al meglio per i miei contenuti quindi grazie anche di questo un'altra cosa bella è che ho tradotto la mia prima graphic novel insomma è il mio primo lavoro di traduzione su un fumetto e sono super orgogliosa di questo progetto sono molto felice non vedo l'ora che arrivi le figlie di Ys usciranno a gennaio per Rebelle Edizioni ne parleremo direi in abbondanza ed è una cosa che mi rende super orgogliosa perché sono molto orgogliosa di quello che è saltato fuori è una storia molto divertente molto carina che ha a che fare con il folklore quindi insomma spero vi piacerà e insomma sono super felice anche di aver collaborato proprio con Rebelle perché è stata una dimensione che penso sia invidiabile e da qualsiasi persona che lavora alla traduzione di un testo perché Rebelle sono delle ragazze ed è un progetto di per sé adorabile e io sono stata super super felice di collaborare con loro e poi vabbè tante altre piccole cose magari più nel quotidiano cose che riguardano la mia vita privata cioè cose positive ci sono state in questo 20-20 ho detto 20-20 vabbè ok the system has fucked my mind nel 2020 ci sono state cose positive cioè due cose positive me le porto a casa quantomeno io me le porto a casa sono tendenzialmente realizzazioni lavorative e non solo il problema è che madonna nulla potrà mai compensare ai lutti e alle ossa rotte che io mi porto a casa in questo 2020 è una cosa che penso riguarderà moltissime persone io non ne ho mai parlato sull'internet perché è una dimensione talmente privata che io difficilmente riesco ad affrontare e che mi sarebbe sembrato assurdo e quindi però insomma il discorso che volevo fare cercando di rimanere molto serio in questo punto è che ci porteremo dietro a lungo e per tanto tempo ciò che abbiamo perso in quest'anno e anche le conseguenze di questa cosa ed è molto difficile parlarne soprattutto per me perché ancora non riesco a realizzare e a fare i conti ne parleremo quindi nulla volevo semplicemente ribadire che per quanto ci possano essere state cose positive quest'anno volevo dire ogni persona che non sarà più con noi non sarà più con noi quindi è molto complicato però io non volevo che questo diventasse un video triste quindi ora cambiamo totalmente tono però ci tenevo ci tenevo anche un po' a lasciare un pensiero per alcune persone che ok seconda domanda e cambiamo tono cambiamo argomento e ok quale libro hai amato all'inizio dell'anno io penso di avervene parlato più volte ma senza mai entrare in tema perché è complicato parlarne soprattutto quando l'ho letto io ovvero vabbè Piranesi di Susanna Clark dall'inizio dell'anno che vi dico che è il libro dell'anno e rimane il libro dell'anno è un libro che secondo me è incredibile per tanti punti di vista è molto molto valido è qualcosa di nuovo è qualcosa di assolutamente secondo me di rompente nella sua staticità che è una cosa stranissima però non è un libro statico allo stesso tempo è una cosa strana ve ne parlerò sicuramente nella top ten dell'anno comunque nella top dell'anno è super super libro cioè un lavoro veramente secondo me eccellente una delle cose più rilevanti lette quest'anno e negli ultimi anni proprio tre un libro che aspettavi tanto insomma che attendevi con ansia che però alla fine non si è rivelato granché allora qua abbiamo due libri dei quali parlare una è una roba non seria e l'altra invece lo è allora categoria non seria io attendevo un sacco The Best Rooted di Kira Cass cioè non è una roba seria è chiaro The Selection è un libro è una serie orrenda ma a me ha divertito un sacco e io ero super carica per questa nuova uscita perché quando il trash è consapevole secondo me è divertente da leggere cioè non è quando leggi qualcosa che sembra serio ma in realtà è trashissimo ma in questo caso Kira lo sa benissimo e io mi aspettavo la stessa roba una roba trashissima assurda divertente che quando la leggi dici vabbè fai quello che vuoi no The Best Rooted è la mia delusione dell'anno ed è assurdo perché è un libro bruttissimo è un libro che anche ha delle velleità di serietà ha questa storia che si incastra e non è che The Selection aveva del senso cioè no ma almeno ne aveva di più cioè è questa la cosa assurda vabbè ma comunque mi spiace un sacco poi ovviamente quale delusione non citare ma alla quale secondo me eravamo un po' tutti e tutte preparate ovvero Eccin Tempesta cioè la conclusione dell'attraverso a specchi nel senso che secondo me è inevitabile pensare al quarto libro attaccato al terzo cioè i problemi iniziano in maniera gravissima col terzo rispetto alla lucidità o comunque all'impostazione dei primi due il quarto era praticamente un disastro acclamato era un disastro che vedevamo da 3.000 km di distanza vero però comunque io ci sono rimasta male non mi aspettavo diciamo un finale dignitoso ma più dignitoso di questo sicuramente e quindi diciamo che lo aspettavo ovviamente perché come chiunque insomma sia diventato fan della serie insomma penso che come qualunque persona che sia diventata fan della serie o che abbia apprezzato la serie questo era un titolo molto atteso e ovviamente come tutte le nostre aspettative sono state buttate nel cesso quest'anno quarta domanda invece è un libro che quest'anno ti ha stupita o comunque ti ha sorpresa e io senza ombra di dubbio vi devo dire che non è che mi ha sorpresa ma è stata la mia scoperta dell'anno grazie di nuovo ad Esperance che l'ha sempre suggerita io quest'anno però ho un po' ampliato tutte le letture di questa autrice sto parlando di Gio Bascego io da inizio anno penso insomma di aver letto più o meno i suoi titoli o se non tutti quasi tutti ed è stata secondo me una scoperta molto folgorante perché io la trovo una voce una scrittura un tono nelle sue storie che secondo me è memorabile è una delle autrici che più di tutte a me ha parlato e mi è arrivata tantissimo tramite i suoi libri e infatti l'ultimo che ho letto è La linea del colore che non è forse la mia opera di Ijeba preferita però comunque allo stesso tempo l'ho trovato un libro molto interessante una storia molto inusuale che ci traghetta anche di nuovo visto che è un tema che sto affrontando molto ai margini di ciò che tendiamo a non vedere o che abbiamo escluso dalle possibilità con cui contempliamo insomma il modo in cui pensiamo che sia fatta la nostra società e quindi in generale Ijeba davvero un'autrice che sono felicissima di avere scoperto questa è la mia sorpresa dell'anno ma è una sorpresa più che altro perché non pensavo mi sarebbe piaciuto così tanto tanto da recuperare più o meno tutto 5 un libro che tu ami ma quasi nessuno ama e vabbè devo dire che in realtà questa cosa succede più spesso di quanto non sia necessario ovviamente ma è abbastanza normale molto spesso a me piacciono cose che a tante altre persone non piacciono ed è normalissimo perché non tutti abbiamo gli stessi gusti non tutti abbiamo apprezziamo le stesse cose a me poi piacciono libri che nel genere fantasy sono molto lenti molto atmosferici dove la magia è un elemento secondario poi ad esempio a me piacciono tutti i libri dove il romance è proprio super secondario o non esiste e quindi molto spesso mi scontro anche con sto libro mi sono annoiata a morte sto libro non c'è questo quindi vabbè a parte tutto però invece io un libro che ho visto diciamo ricevere reazioni molto negative o molto positive nel mio caso positive ad esempio è la festa nera di violetta bellocchio è una storia molto scura una distopia veramente molto leggera ma più che altro perché ci traghetta in questo mondo quasi isolato dei boschi delle colline eccetera dove avvengono cose particolari e vabbè quella è tutta la seconda parte del romanzo ma che inizia con un episodio molto difficile con i quali i nostri protagonisti stanno cercando di fare i conti e dopo diverso tempo cercano di superare questo trauma che hanno vissuto insieme ributtandosi su questa sorta di indagine di queste comunità montane nelle quali sta succedendo qualcosa e a me è piaciuto molto mi è piaciuto molto soprattutto perché la scrittura di Bellocchio è assolutamente aderente con l'aridità che si respira in ciò che è successo in passato e ciò che sta succedendo in questo momento è così spigolosa e allo stesso tempo proprio non ti dà nessuna gioia proprio leggere questo libro è come bere del catrame e questo secondo me è abbastanza potente so che per molti questo è stato l'elemento invece di di stacco totale proprio l'elemento meno apprezzato di tutto il libro per me invece è stato l'elemento più interessante insieme ovviamente anche ad alcune dinamiche che emergono dalla storia ve ne ho parlato poco giusto in generale nel recap dell'anno che devo fare probabilmente però magari lo facciamo a gennaio vabbè in ogni caso di nuovo la festa nera di Violetta Bellocchio io ve la suggerisco un sacco sei un libro che avresti voluto che fosse già uscito nel 2020 e io vi do due titoli uno che non è proprio uscito da nessuna parte ovvero il secondo libro della nona casa noi non abbiamo nemmeno il titolo uscirà nel 2022 più lo dico più sto male vabbè è un casino infatti boh vabbè attendiamo che lì lo scriva perché il problema è che l'anno prossimo esce il secondo volume di King of Scars che si chiama Rule of Wolves e quindi ha dovuto finire quello poi dopo ha messo mano al secondo della nona casa e ci sta lavorando io boh io so qua che muoio vabbè in ogni caso il secondo volume in realtà è una sorta di ce l'ho già anch'io quindi è un po' assurdo che io lo dica però la cosa che veramente stiamo morendo è il secondo volume di Gideon la nona cioè Arro la nona cioè quella traduzione italiana ovviamente perché ve lo so io ve lo giuro ormai Stolker o Francesca Tegamini per vedere quante pagine ha scritto quante pagine ha tradotto ogni giorno sarebbe bellissimo fosse uscito praticamente subito il problema è poi invece che a letto la nona uscirà anche quello nel 2022 cioè siamo alla follia va bene va bene ma tutto bene stiamo reggendo benissimo quest'anno settima domanda invece chiede quale libro stai aspettando che è stato spostato al 2021 e io ho un solo titolo che mi viene in mente cioè probabilmente sono altri ma diciamo uno che sono certa doveva uscire a settembre di quest'anno ma è stato spostato all'anno prossimo a settembre appunto che è appunto Empire of the Vampire di Jay Kristoff che è la sua nuova opera è un'opera sui vampiri io sono una grande fan dei vampiri sono una delle mie creature preferite che ho letto in lungo e in largo sono molto curiosa un po' perché insomma a me piace Jay Kristoff ovviamente come autore lo trovo umanamente una persona meravigliosa ma soprattutto anche a livello di scrittura il suo stile le sue storie a me intrattengono un sacco questa è una storia su un vampiro io comunque le ho letti in lungo e in largo e quindi volete che mi lasci scappare una storia sui vampiri ma non credo ma non credo doveva uscire a settembre è stato spostato l'anno prossimo vabbè vuol dire che nel 2021 avremo dei titoli da attendere banalmente ottava e ultima domanda chiede invece a quale libro penserai quando penserai al 2020 e ecco allora diciamo che ho la risposta cioè il libro il mio preferito del 2020 che non è un segreto ve l'ho già anche nominato che è Piranesi di Susanna Clark però se devo pensare al 2020 come un libro e ora vi spiegherò anche perché penso e lo identificherò come la ballata dell'usignolo del serpente di Susan Collins perché proprio come un po' questo libro è andato un po' tutto a scatafascio a un certo punto diciamo buone intenzioni andate male e quindi insomma direi che probabilmente ha senso cioè questo ritorno che magari potevamo lasciare stare o lasciare dove era ecco in realtà a me poi il libro non è dispiaciuto cioè gli ho dato tre stelline secondo me è esattamente ai livelli di Mockingjay e agli stessi problemi di Mockingjay che invece io avevo insomma avevo apprezzato di più i primi due volumi ovviamente di Hunger Games e niente direi che insomma queste erano un po' le mie risposte di oggi insomma io spero che per voi almeno questo 2020 non sia stato un anno così terribile o che comunque siate riusciti a portare a casa almeno la vostra salute mentale che penso sia l'unica cosa che conta importante insieme alla salute ovviamente insomma se non è così ricordatevi che non siamo da soli se anche è stato un anno orribile ci faremo i conti pian piano e prenderemo le cose un passetto alla volta che è l'unico modo in cui le riusciremo ad affrontare non so bene come nemmeno io e niente direi che insomma questo book talk finisce qua mi farebbe molto piacere sentire anche le vostre risposte giù nei commenti insomma se ci sono qualche libro che secondo voi potrebbe rientrare in queste domande e per chiunque abbia voglia di fare questo tag ovviamente sentitevi taggati e direi che per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao